Il problema dell'Italia è che i ragazzi in questo momento che ci stanno guardando, ci stanno ponendo il dubbio, io per andare a fare il medico, l'avvocato, l'infermiere, il cuoco, l'imbianchino, dove vado? A Berlino, a Londra, a Parigi, a New York. Noi stiamo perdendo centinaia di migliaia di ragazzi che io voglio che rimangano in Italia a lavorare, a mettere su famiglia e a fare dei figli, perché così il paese cresce.